Il Consiglio dei Ministri ha revocato la concessione a strada dei parchi delle due autostrade a 24 e a 25 tra l'Abruzzo e il Lazio. Ci sono già i primi commenti politici. Il provvedimento sulla revoca della concessione dell'autostrada dei parchi è storico e siamo molto soddisfatti. Io e il Ministro Orlando, a parlare e il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, abbiamo espresso grande soddisfazione. Finalmente si riequilibra il potere tra i concessionari e lo Stato. E aggiunge il Ministro Andrea Orlando, il Ministro del Lavoro, si tratta di un segnale molto importante. Poco fa è arrivata anche una nota da parte di Strada dei Parchi, in una nota scrive con polemica, si tratta di una scelta ritorsiva del tutto ingiustificata sia per ragioni di procedura che di merito. Questo perché era stata la stessa società del gruppo Toto di Chieti a chiedere di cessare anticipatamente il contratto di gestione delle due autostrade, la cui scadenza naturale è fissata, lo ricordiamo, al 2030. Strada dei Parchi difenderà in tutte le sedi, continua la nota, il proprio buon nome e anche gli interessi legittimi che rappresenta, che sono quelli di un gruppo italiano che garantisce lavoro a 1.700 dipendenti e produce ricchezza pari all'8% del PIL della Regione Abruzzo. Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, dispone l'immediato subentro di Anas S.p.a. di Anas S.p.a.